50 anni di specialistica ambulatoriale interna, dalle mutue alle nuove forme organizzative come modello per l'integrazione territorio ospedale. 50esimo congresso nazionale del Sumai Assoproff al Grand Hotel di Salerno. Gli incontri voluti dal sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell'area sanitaria che rappresenta il 90% dei medici specialisti presenti sul territorio italiano andranno avanti fino al prossimo venerdì. Nella giornata di apertura si è voluto accendere i riflettori proprio sul tema centrale, ossia i 50 anni di specialistica convenzionata interna. E si è voluto anche apportare considerazioni sulla legge 24 del 2017 rispetto alle responsabilità professionali. E sul piano nazionale delle cronicità con in tal senso il ruolo della specialistica convenzionata interna, dalla presa in carico del paziente cronico all'integrazione territorio ospedale. A confronto anche direttori generali di diverse aziende sanitarie arrivate da tutta Italia. Un incontro a cui ha preso parte anche il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che ha poi dovuto abbandonare il congresso per raggiungere l'ex premier Matteo Renzi giunto a Pestum. Grazie. Grazie.